ultima data cura le forze di qualità stanno circondando il villaggio queste sono le due persone che stanno organizzando la difesa per respire le attacchi ma stanno scappando e da qua preso attaccano tutti io voglio c'è il medico la prima ferita? c'è la benda? la prima ferita no? ecco il medico è lì! lo sta quellando! speralo! americano! 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 che delicatesse! scopa coprimi! eh un attimo! ce l'hai dietro la copertura eh? ok! apriamoci di qua! apriamo questa parte! io se ti faccio copertura vai di là? pronto? vai! ah no! preso 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 preso! oh no! melco! fila! 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 ! ecco! andiamo indietro! andiamo di tornare indietro! si adesso rotto lo... chi non l'ha acqua! andiamo dai! Come non va? Ah sai perché non va? C'ho batteria C'ho batteria Devono far più forte Vogliono più forte Far vincere gli americani Allora io direi che è impossibile